Degrado nel quartiere di Vianora a Pescara, siamo nella zona anche delle case Ater di edilizia popolare, consigliere Pignoli ci sono anche qui dei residenti che lamentano una situazione difficile che dura ormai da tempo. C'è un appartamento abbandonato ormai dall'Ater dove esistono praticamente vari escrementi di piccione, le persone sono costrette a tenere le serrande chiuse a danno anche di questioni relative igienico-sanitarie. Qual è adesso il leitmotiv? Il leitmotiv è che dobbiamo intervenire e come si interviene scriverò al nuovo presidente del consiglio di amministrazione dell'Ater e chiederemo di essere ricevuti insieme a una delegazione di Vianora e faremo vedere le condizioni, erba non tagliata e poi c'è anche la parte diattiva come potete vedere qui dalle immagini che c'è uno stadio di abbandono, foglie secche e quant'altro ma tombini otturati per cui c'è bisogno di un intervento importante per l'intera zona perché evidentemente si vive una situazione di grave difficoltà dal punto di vista abitativo. Sono tante le famiglie che vivono in queste abitazioni? Sì, sono tante, soprattutto anche famiglie giovani con bambini, sono stati costretti a mettere anche quelle famose zanzariere per evitare appunto le zanzare. Mi diceva un cittadino che la scorsa settimana addirittura un ratto è salito dentro la sua macchina quindi qui si vive da terzo mondo. Ho iniziato questo tour iniziando da via Rigopiano, via Nora, poi passeremo in via Caduti per Servizio, la zona di via Tavo, quindi via Lago di Borgiano, via Lago di Capestrano, la Marina Sud, la Marina Nord, Zanni. Voglio vedere un po' come è la situazione delle case popolari. Fino adesso è un disastro, lo posso testimoniare con i miei occhi e con gli occhi dei cittadini che me lo fanno notare. Ora si deve iniziare pian piano con le piccole risorse che ha l'Ater, però a fare anche dei piccoli interventi.